buonasera ragazzi qui matteo petaluga in diretta e qui fabio gallerani in una diretta storica forse la più importante del 2019 probabilmente la diretta più importante del 2019 fabio ragazzi buona serata a tutti siamo collegati dagli mg studios di dubai chiedo alla regia per conferma se tutto a posto chiedo anche a te che sei collegato magari darmi un feedback sull'audio ma penso che si sente bene rosaria roberto lorella ci sono ragazzi si stanno collegando decine di persone quindi probabilmente non riesco a salutare tutti e chiedo scusa per questo ma stasera penso che sia una serata importante quindi con un grande pubblico ragazzi grazie di cuore per essere qui una cosa importantissima chiedo a tutti i partecipanti di condividere questa diretta perché è una diretta storica per il mondo del digital marketing in italia quindi questa sera presenteremo la nuova versione di marketing genius il nuovo corso all in 2019 in anteprima assoluta per la prima volta un'indicazione molto importante prima di partire perché ancora non è all in c'è un link sopra questa diretta e link per il corso di marketing genius all in c'è un'offerta entro mezzanotte quindi manca davvero pochissimo poi a mezzanotte il sito di marketing genius andrà offline per il mega aggiornamento quindi se ancora non l'hai fatto fai azione in questo momento perché alla fine della diretta il sito web andrà offline passo la parola a fabio e poi iniziamo ci sono 140 persone collegate in questo momento stanno aumentando quindi condividi 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 e partiamo vai fabio allora se non sai dove sei finito questo è la diretta di aggiornamento della nostra piattaforma marketing genius che è una piattaforma di training sul marketing digitale ed è anche una grande famiglia di persone che utilizzano il marketing digitale le strategie digitali di promozione sul web per lanciare un'idea o salvare la propria azienda ci sono tantissimi imprenditori che hanno usato negli ultimi due anni e mezzo da quando è nata marketing genius nel 2016 adesso vedremo una breve storia da dove viene questo movimento digitale vero e proprio e dove sta andando quindi siamo veramente emozionati ci sono boh qui stiamo aumentando 161 stanno a 166 stanno aumentando penso che supereremo le 200 persone quindi condividi sulla tuo profilo senza strafare senza spammare in tutti i gruppi in modo che facebook sia tranquillo con noi in questa diretta perché perché sarà veramente emozionante il sito andrà offline a mezzanotte perché dovremo fare un grande aggiornamento anzi già pronto quindi prevediamo che sia online il prima possibile ma andiamo a vedere cosa abbiamo preparato per te questa sera quindi io direi matteo di partiamo con la presentazione va bene ragazzi facciamo un piccolo escursus andiamo a raccontare qual è la nostra storia soprattutto la storia di marketing genius anzi ho preparato una piccola presentazione anche divertente vado a condividere lo schermo l'andiamo a vedere insieme e poi ti mostrerò finalmente il nuovo corso all in di marketing genius è la nuova piattaforma in anteprima assoluta con tutte le novità quindi ragazzi grazie per essere qui condividi questa diretta e ragazzi buon 2019 perché questo è il nostro regalo per tutte le persone che sono in marketing genius per tutti i nostri follower supporters vi invito a vedere cosa abbiamo preparato per voi condivido lo schermo e partiamo allora apro la presentazione e partiamo dalla storia 7 novembre 2016 l'inizio cioè per chi magari si collega questa sera e dice ma chi sono matteo e fabio cos'è marketing genius il 7 novembre del 2016 è stata lanciata marketing genius con una diretta che questa qui è lo screenshot che abbiamo da un ricordo di facebook dove io semplicemente ho scritto marketing genius in lancio sono passati nemmeno tre anni e tante cose sono cambiate nella mia vita in quella di fabio e in quella di migliaia di persone in tutta italia in tutta europa che ci seguono il primo lancio è stata è stata questa diretta che ho fatto dalla mia cameretta di genova dove tutto era partito qualche anno prima e ho voluto proprio farla da lì non avevo né la telecamera professionale né le luci non avevo niente ero semplicemente io a raccontare quello che avevo creato un corso di internet marketing che ti insegnava tutto quello che avevo imparato negli ultimi anni sul marketing digitale e subito dopo si sono unite 100 persone quella sera ti ricordi fabio che è stato pazzesco non ci potevo credere adesso scopriremo cosa c'entravo in quella sera perché in realtà marketing genius l'avevi lanciata tu dopo anni di studio nel mondo digitale e quindi cosa è successo è successo che abbiamo lanciato marketing genius si sono unite 100 persone in una notte in un'ora in realtà esatto con paypal che ci aveva bloccato i pagamenti mi ricordo che tu sei stato la notte lì a sclarare con paypal però è stato la partenza e questo qui è un video simbolo e anche su youtube in realtà questo video perché poi l'ho caricato ed è la prima lezione del primo corso di marketing genius di quasi tre anni fa dove io dissi una frase in quel video lo puoi andare a vedere su youtube io dico ragazzi qua parte un corso di marketing che non era nemmeno completo erano 30 lezioni su 60 e quindi l'ho lanciato che addirittura era incompleto a un prezzo di lancio stracciato con poche persone che pensavo che mi seguissero invece poi l'idea è piaciuta ma in quel video io dissi una cosa incredibile io dissi io ragazzi non so come finisce questa cosa però secondo me può essere bella se voi mi date fiducia si sono unite e da lì è nata la prima versione di marketing genius questo qui è uno screenshot ragazzi per chi non c'era del primo sito di marketing genius è di novembre 2016 proprio marketing genius 1.0 una piattaforma o scena ragazzi o scena che però è stato l'inizio di tutto questo quindi se tu stai pensando magari ma io voglio fare business non ho grandi conoscenze tecniche bene nemmeno io ce l'avevo a livello di programmazione quando ho aperto marketing genius e se ti stai chiedendo ma com'è nata poi l'idea di farlo insieme a fabio di creare questa community insieme io ho chiesto proprio a fabio di passarmi questa piattaforma che lui aveva programmato un anno prima se non sbaglio esatto infatti io e matteo ci eravamo divisi a livello imprenditoriale un anno prima nel 2015 io credevo che per avere successo online dovevi diventare un web designer e quindi mi ero messo a studiare web design ed ero diventato abbastanza forte a creare piattaforme di e-learning cioè dove le persone potessero accedere e imparare qualcosa e matteo quando ha deciso di lanciare marketing genius non sapeva assolutamente niente niente di piattaforme di programmazione di niente io non sapevo sapevo un po' meno ma avevo comunque contatti con persone che mi hanno dato due dritte che adesso conosceremo breve e ho detto matteo ho la piattaforma chiave in mano per te e l'idea iniziale in realtà era mettere marketing genius su una piattaforma che avevo lanciato come contenitore di corsi a caso e matteo mi ha detto no marketing genius deve essere nella sua piattaforma quindi abbiamo clonato quella piattaforma e abbiamo messo online questo corso che era totalmente improvvisato contenuti pazzeschi ma parte tecnica veramente zero grazie grazie per i primi che si sono uniti anni fa che ci stanno scrivendo no dai era bello ragazzi era discreto dai bello è un'altra cosa se vi è piaciuto quello vi piacerà quello di adesso andiamo a vedere come è proseguita la storia ok quindi fabio entra in marketing genius per darmi una mano a livello tecnico e poi la svolta è stata in realtà l'anno dopo a maggio del 2017 quando rullo di tamburi ragazzi arriva lui e cambia tutto questo è davide fox e si chiama davide volpato ma per tutti noi è davide fox ed è il webmaster di marketing genius la persona a cui voglio fare uno shout gigante perché la persona che si fa un mazzo così dietro le quinte io ho messo qui la foto di davide con sua moglie e lui non è raro recuperare una foto di davide perché lui non è molto social a livello di foto video però è una persona che c'è sempre ed è la persona che ha rivoluzionato marketing genius io ragazzi per raccontarvi un po' ecco vi sto facendo mi sto mostrando qualcosa di quello che sta per arrivare per raccontarvi un po' di come è nata la collaborazione con davide noi eravamo appena partiti avevamo tirato su qualche migliaio di euro dai primi clienti che ci avevano dato fiducia ma io non avevo i soldi per pagare un webmaster che mi seguisse completamente il sito allora gli dissi davide io non ti posso pagare tanto per gestire tutto il sito eccetera perché siamo appena partiti non abbiamo ancora i fondi come azienda per pagare un team intero tecnico eccetera lui mi ha detto ma io non voglio soldi voglio essere parte del progetto allora con quella frase io ho capito che lui era la persona giusta quindi un grande shout a davide perché la fortuna di avere qualcuno che 24 ore su 24 c'è che dà l'anima per mg che dà l'anima per aiutare altre persone è senza prezzo ragazzi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto grazie a tutti voi che ci avete supportato i primi clienti le persone che sono arrivate lungo la via tutti i nostri fans e followers e supporters che ci danno una mano e grazie al team straordinario che abbiamo creato con Elisa, Martina, Domenico, tutti i nostri freelancer Thomas il nostro direttore artistico e Lucy dietro le quinte che c'è sempre e tutte le persone che lavorano insieme a noi insieme a tutti i nostri affiliati, i nostri top affiliati, i nostri affiliate manager ragazzi siamo un grande gruppo e sarebbe stato impossibile fare tutto questo da soli quindi ci tengo a fare un grande shout e un applauso a loro a cui dobbiamo veramente tutto quindi Davide è stato indispensabile direi fondamentale per questo cambiamento e con Davide è nata Marketing Genius 2.0 questo era a maggio del 2017 quando è stata creata la piattaforma che ci ha portato ad essere la community numero uno in Italia sul marketing digitale Marketing Genius 2.0 è il sito che vedi adesso con un intero ecosistema di prodotti e servizi abbiamo un programma di affiliazione con cui le persone possono lavorare insieme a noi promuovere i nostri prodotti e guadagnare commissioni è stata lanciata Marketing Genius TV un sito web che ha raggiunto anche picchi di oltre 5.000 studenti collegati in un giorno probabilmente domani batteremo questo record domani magari ne faremo 10 o 15.000 però quando è nata MG 2.0 ecco questi erano i numeri abbiamo preso dei server dedicati apposta al nostro sito unici quindi server che non vengono condivisi con nessun'altra attività quindi sono solo server per il nostro sito un supporto 24 ore su 24 7 giorni su 7 perché crediamo che sia importante ci siamo resi conto che tanti imprenditori magari studiano la notte si collegano ad orari impossibili noi ragazzi crediamo in questo crediamo che un'azienda moderna non possa permettersi il lusso di fare giorni off di chiudere certi giorni perché se sei un'azienda moderna e soprattutto chi lavora con imprenditori come noi ma soprattutto noi che promuoviamo anche una certa visione del mondo imprenditoriale che deve essere veloce deve essere disponibile deve essere raggiungibile abbiamo deciso di creare un supporto 24 ore su 24 7 giorni su 7 via chat, email o whatsapp quindi è una cosa che non ha nessuno ed è senza prezzo perché vogliamo essere disponibili e raggiungibili sempre quindi questo è quello che ci ha permesso di fare Marketing Genius 2.0 che è la piattaforma che questa sera seppelliamo quindi grazie di cuore ragazzi un rip e un applauso un rip quasi due anni di piattaforma esatto sì quasi due anni di MG 2.0 che oggi muore viene sepolta e la ricorderemo per sempre quindi la metteremo a dormire per sempre lanciato tantissimi talenti online abbiamo salvato intere aziende abbiamo visto storie di successo di qualsiasi tipo e quindi davvero è stato un percorso emozionante a partire dalla prima piattaforma che non l'ho ancora detto però Davide Fox prima di entrare in Marketing Genius era il mio mentor e io ti dico un errore che non devi fare oggi perché lo spiego anche avete poi magari visto il trailer del mio cortometraggio che uscirà quest'anno lo dico sempre l'errore più grande che ho fatto nella mia carriera online è stato quello di fare il fai da te nella programmazione web io in quei due anni se Matteo non arrivava e mi diceva sali a bordo sarei ancora senza un euro sarei veramente il tipico imprenditore digitale fallito che ha provato a fare il fai da te perché Davide Fox era un mio amico ce l'avamo conosciuti negli Stati Uniti ormai nove anni fa nel 2010 e lui mi dava le dritte e io non ho avuto la mentalità di dirgli Davide sali a bordo e lavoriamo insieme volevo le dritte gratis e lui essendo mio amico me le dava e io avevo una mentalità così povera che ho perso anni della mia vita pur di risparmiare questo non lo devi fare tu soprattutto se fai su un serio online quindi siamo in 270 in questo momento ragazzi grazie di cuore per le condivisioni continuate a condividere e chi è appena arrivato condividete perché questa sera cambia il mondo digitale in Italia appunto ok con questo con questo live di cui veramente sei parte della storia questa sera proseguiamo con il racconto il racconto di Marketing Genius di cosa è successo perché adesso arriva la parte forte i numeri di MG 2.0 allora una piattaforma che ha raggiunto oltre 24.000 utenti registrati quindi parlo di membri veri confermati non email non email parlo di membri che si sono iscritti nome, cognome, password account registrati un fatturato di oltre 791.777 euro solamente in transazioni con carta quindi un'azienda no Paypal in queste carte esatto solo carta no bonifici no Paypal solo le vendite con carta tutto questo penso che sia abbastanza valido anzi per chi ma secondo te è fake no perché c'è gente che fa gli screenshot e li trucchia vediamo un po' perché dovrebbe essere fake andiamo a vedere se è fake andiamo a vedere vai loggati così a caso allora io faccio login ragazzi sicuramente il numero sarà cambiato faccio login nella piattaforma di Marketing Genius va bene per chi pensa che siano fake questi numeri visto che ci sono anche persone e ne conosciamo che sono studenti nostri tra l'altro che a volte condividono degli screenshot millantando risultati assurdi che in realtà sono screenshot falsi allora io davanti a voi vi apro visto che qualcuno mi dice eh però c'è uno che fa vedere i guadagni tu non li fai mai vedere ok io vi apro davanti a voi il sito di Marketing Genius e ve lo faccio vedere quindi in questo momento siamo sono anche aumentati guarda sono anche aumentati attenzione sono anche aumentati ma sono aumentati anche gli utenti sono aumentati anche gli utenti sì perché qua sono 24.075 lo avevi fatto stamattina la slide mi ha preparato lo screenshot l'ho fatto aspetta andiamo a vedere qua sono 24.067 quindi sono 24.075 si è registrato ancora qualcuno sì l'ho fatto qualche ora fa tornando alla presentazione invece aspetta che esco dal sito di MG perché ci sono dati ah guardate ragazzi vi sto anticipando qualcosa ma non ve lo faccio vedere ancora tornando alla storia qui è nato poi il corso All-in 2.0 che è stato completamente aggiornato e questa è la versione attuale del nostro corso All-in che tutti gli utenti ovviamente hanno a disposizione e poi i nostri bellissimi eventi Fabio ti lascio raccontare a te quella che è la magia degli eventi di MG Allora dopo essere salito a bordo come l'uomo che porta la piattaforma Matteo Pittaluga a febbraio 2017 Matteo mi dice senti qui dobbiamo creare una community io gli dico come la chiamiamo c'era ancora quel momento eravamo nel bunker a Valencia in questo ufficio orrendo cioè non c'era la luce naturale c'era tutte le ombre e io gli ho detto chiamiamolo movimento perché voglio un gruppo di persone che si muove verso un obiettivo non chiamiamolo community è troppo facile creare un ennesimo community è un movimento di persone normali che diventano straordinarie e quindi dopo quella scelta abbiamo deciso di creare tantissimi eventi come stai vedendo in queste slide anche mastermind privati come quello che abbiamo fatto a Dubai il 25 e il 15 novembre 2018 e la cosa emozionante di questi eventi è che le persone non si erano mai viste prima ma quando si incontravano dal vivo sembrava che si conoscessero da sempre quindi la potenza di questi eventi non è stato creare un evento in cui ti insegno a fare marketing copywriting ti insegno a vendere no è stato la magia è stata l'unione è stata la famiglia che abbiamo creato i marketing genius sostanzialmente da remoto perché il momento in cui eravamo con le persone è stato solo negli eventi ma l'energia che si è creata nel gruppo e nel movimento con migliaia di utenti poi si sprigionava in questi eventi questo è l'ultimo evento a Dubai abbiamo affittato una villa abbiamo affittato uno yacht abbiamo fatto un evento spettacolare sì per pochi imprenditori che hanno voluto portare il loro business al livello successivo abbiamo ampliato la gamma di eventi abbiamo deciso di fare anche i mastermind che sono qualcosa di incredibile e poi personalmente già in realtà da giugno 2017 era nata MGTV ma era nata un po' come scherzo di me e Matteo che facevamo i vlog eravamo andati negli Stati Uniti a fare un corso di formazione abbiamo deciso dai facciamo una serie di vlog li spariamo sul web la chiamiamo MGTV è un logo osceno la faccio vedere intanto che parli la faccio vedere sì non era questo che stai vedendo adesso il logo è stato disegnato poi da un designer e abbiamo poi portato a bordo uno degli studenti più insospettabili della community che non sapevamo avesse un talento artistico molto grande siamo anche in diretta su MG Television ovviamente siamo in diretta ovunque su MG Television è sempre stata rivolta è sempre stata rivolta ai risultati il modo in cui vengono spiegati i concetti sono molto pratici ma da parte mia e da parte di Matteo abbiamo creato un involucro di protezione con l'esterno chiamata all-inners che è diventata poi la cultura di chi non molla mai questa è un'altra storia di cui non ti parlo in questa live perché sicuramente la conosci sto mostrando intanto MGTV la tv degli imprenditori digitali ragazzi la televisione online numero uno dedicata al mondo dell'imprenditoria digitale dove puoi vederti i tuoi show ci sono un sacco di contenuti gratuiti basta che scegli il tuo argomento e te li vai a vedere esatto questo perché dirai ma non era abbastanza spiegare come fare pubblicità su facebook no non è abbastanza perché se tu non cambi la mentalità con cui approcci le cose purtroppo nulla cambia devi cambiare un po' devi superare i tuoi limiti devi cambiare il modo in cui pensi perché il mondo digitale non è il posto più facile per fare risultati ma è un posto dove puoi controllare quello che stai facendo che a differenza del marketing normale non puoi farlo quindi abbiamo creato tutto questo ecosistema per aiutarti a cambiare ed essere il posto migliore per farlo e poi dopo questo grande lavoro di due anni di creazione di contenuti ogni giorno a creare contenuti siamo stati contattati a ottobre dalla Marconi International University in Miami che stava cercando due figure fidate ed affidabili che avessero un modo di spiegare le cose pratico che portasse risultati ci hanno affidato il primo unico vero corso universitario in marketing digitale e chi stai vedendo in questo live in questo momento siamo gli unici due professori universitari in Italia che portano avanti un corso universitario riconosciuto dalle istituzioni ed è per questo che è stato un po' un premio al tutto lo sforzo che abbiamo fatto la nostra voglia di aiutare prima ancora di guardare al profitto al guadagno ricordati qualsiasi cosa fai falla per risolvere un problema a chi ha bisogno di te perché se no non fatturerai mai niente non ti arriveranno mai soddisfazioni e sarai mediocre non sarai mai e ogni cosa che fai fa la compassione così come noi creavamo contenuti anche quando non guadagnavamo anche quando non arrivavano i risultati anche quando magari arrivavano cifre grosse di guadagno e scegliamo di reinvestirle su marketing genius perché è la nostra passione quello che ci piace fare ci piace creare contenuti ci piace aiutare le persone ci piace reinvestire ci piace evolverci perché seguiamo la nostra missione piuttosto che semplicemente i guadagni e cercare sempre il risultato a breve termine noi crediamo nel business a lungo termine ed è per questo che ci ritroviamo qui oggi al terzo anno alla terza piattaforma al terzo corso perché ragazzi girare un corso soprattutto come quello che vedrete adesso che vi farò vedere richiede uno sforzo mentale gigante che non è un corso di 5 lezioni il corso Lean adesso il nuovo ha 118 119 video video dove condivido lo schermo ti mostro le cose sono video preparati prova a prepararti 119 video e a registrarli con le cappelle che fai con quello che ti trapano a fianco con i rumori con le distrazioni è un lavoro enorme e lo fai per passione e un'altra cosa che abbiamo deciso di fare è di offrire questo aggiornamento gratuito per tutte le persone che sono già all in questo non lo fa nessuno va bene ed è il nostro regalo per tutte le persone che ci hanno dato fiducia per chi ci ha supportato per chi ha contribuito alla crescita di marketing genius quindi spero che sia apprezzato lo volete vedere? volete vedere? ok allora adesso vado a condividere lo schermo di nuovo e arriviamo appunto alla data di oggi 31 gennaio 2019 quando marketing genius arriva alla versione 3.0 eccolo qui esce il nuovo corso all in insieme alla piattaforma con la nuova veste grafica aggiornamento 2019 di marketing genius corso all in a partire da domani con video in full hd contenuti inediti che ti mostrerò adesso e strategie nuove per il 2019 qua c'è un piccolo screenshot ma adesso io vi chiedo una cosa volete vederlo? perché devo vedere questa chat che esplode vediamo vediamo sono 270 persone che dicono si si devono esserci 270 commenti devono vedere esatto se vedo 270 commenti faccio vedere gli screenshot anzi ti porto dentro il sito altrimenti no ok si 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 lo vogliono vedere lo avete vedere? ok allora vi ci porto ragazzi mi batte il cuore anche a me ok vado a condividere lo schermo e vi porto dentro il sito di marketing genius prima di tutto allora in questo momento ovviamente è in manutenzione questo sito è una versione beta che domani verrà implementata quindi quello che succederà è che a mezzanotte il sito di marketing genius andrà offline e noi lavoreremo tutto il giorno per l'aggiornamento domani domani in tarda serata il sito tornerà online quindi questa qui è la versione beta in questo momento che domani verrà esportata e caricata sul sito questa qui è la nuova home page ci siamo io e Fabio c'è una spiegazione di cosa è marketing genius e la storia di marketing genius c'è spiegato per chi è marketing genius con una nuova veste grafica tutti i punti di forza c'è la nostra storia mia e di Fabio e quello su cui siamo specializzati c'è una parte intera nella home page dedicata alla community con le foto degli eventi i video degli eventi domande frequenti e ovviamente non possono mancare tutte le testimonianze su marketing genius questa qui è la nuova parte perché se no ci serviva una pagina a parte questa qui è la nuova veste grafica della home page spero che vi piaccia e adesso vi porto dentro al dashboard questa qui la dashboard domani la vedrete leggermente diversa perché stiamo cambiando ancora dei contenuti però grosso modo sarà così semplice e intuitiva da qui ti puoi vedere MGTV puoi accedere ai video gratuiti o andare nel corsolino vedere i nostri webinar la parte più importante è questa qui dei corsi perché abbiamo pensato di fare una cosa fighissima qua e praticamente dividerli in questo modo ogni corso ha un menu a tendina così che ti spiega cosa include e le skills che imparerai in ogni corso domani magari lo vedrai leggermente diverso però essenzialmente funziona così ti puoi andare a vedere i corsi accedere da qui se lo hai acquistato oppure con questo sistema andare a vedere tutte le abilità che imparerai e cosa include il corso da qui puoi andare a vedere il programma di ogni corso e il video presentazione quindi se clicchi qui ti esce un pop up con il video di presentazione del corso una cosa molto bella beh qui sotto ci sono tutti i nostri corsi sempre studiati allo stesso modo cioè intro cosa include e le skills che acquisti con il corso e ci sono tutti i nostri prodotti la cosa bella che abbiamo pensato di fare è questa di mettere un menu con le abilità quindi tipo che abilità vuoi migliorare oggi diciamo che voglio imparare a fare branding clicco qui e vengo portato direttamente al prodotto giusto per me quindi molto interessante anche per gli imprenditori che vogliono formarsi su un argomento specifico in questo modo con l'ecosistema e i prodotti di marketing genius che si aggiornano continuamente una persona potrà direttamente scegliere che abilità cioè che abilità vuoi perfezionare che cosa di specifico vuoi imparare essere ridirezionato al prodotto giusto va bene vi piace ragazzi finora intuitivo veloce grandi ok per chi è già alline vuole vedere anche la vecchia versione anche la vecchia versione sarà disponibile ok anche la vecchia versione io consiglio di studiarvi la nuova perché è aggiornata però anche la vecchia ci sarà qui c'è la parte affiliazione chiaramente dedicata al programma di affiliazione di mg molto intuitivo molto veloce qua poi potrete esplorarlo tutto quindi essenzialmente quello che abbiamo fatto è stato un restyling pensato su due cose prima la versione mobile quindi sarà molto più veloce da telefono poter accedere andare a vedere tutti i contenuti il sito carica a una velocità super sonica perché è reso ultra leggero abbiamo levato un sacco di plug in sistemato un sacco di codici quindi caricherà la velocità della luce da telefono pc tablet in modo che puoi vederlo in qualsiasi posto del mondo a qualsiasi ora anche se sei con la rete dati ah un'altra cosa importante tutti i video sono renderizzati in modo da consumare poca banda quindi se usi il 3g o il 4g e non vuoi sprecare dati te ne userà molto pochi quindi questo è molto importante per chi vuole vedersi video da mobile quando è in giro grande poi questo qui è essenzialmente il sito cos'altro c'è l'importante ah è ovviamente una veste grafica come dicevo anche a livello di user experience molto più semplice in modo che uno si possa andare a vedere quello che vuole ed è anche sincronizzato con MGTV quindi se vuoi andate a vedere il show su MGTV lo puoi fare da lì andiamo a vedere il corso Lean cosa dici? andiamo chi lo vuole vedere il corso Lean ragazzi lo volete vedere? poi da domani lo vedrete completo adesso vi voglio spiegare le principali novità di questa versione e cosa ho pensato ok? vado a scelare lo schermo e vi porto all'interno del corso All in 2019 qua c'è il mio video di presentazione che ti porta all'interno del gruppo Facebook e ho pensato di partire nel corso con dei consigli quindi il primo video ti spiega come utilizzare il corso e poi subito bam si parte con una novità devastante adesso io te la faccio vedere Fabio nemmeno la sa non me l'ha voluta dire non la sa nemmeno lui perché se no non reagivo non so cosa abbia preparato allora io ti spiego cosa ho preparato lo spiego a voce e poi ve lo faccio vedere ci metti magari un po' a capirlo però è una roba che cambierà tutto ed è un servizio solo per chi è all in va bene come funziona? allora mi sono reso conto che un problema di tanti business o di chi inizia è la credibilità cioè le persone non si fidano di te non si fidano di quello che promuovi non si fidano di chi sei e uno dice uno che ti vede apparire sul web dice ma perché ti dovrei ascoltare? perché dovrei cliccare sui tuoi link? perché dovrei andare a comprare da te? chi cacchio sei? soprattutto quando sei appena partito e magari sei partito e hai due problemi essenzialmente hai una fanpage o un profilo instagram con pochi follower quindi uno dice ah ma c'hai 30 like sulla pagina perché dovrei comprare da te? chi cacchio sei? no? quindi tu te li vai a comprare uno se li va a comprare che non è la cosa giusta poi instagram ti blocca e ti attacchi altra esatto allora io ho pensato ad una soluzione dove sfruttando il potere della community di marketing genius possiamo aiutare chiunque a lanciare le sue prime promozioni ho pensato di studiare questa strategia nel corso appena partiamo io ti insegno a usare facebook e instagram in un modo ben preciso ti insegno a pubblicare un contenuto quindi immaginati che io pubblico non so la mia foto sulla bottiglia d'acqua che è il prodotto che voglio vendere quindi io vendo bottiglie d'acqua pubblico la foto e appena ho pubblicato la foto vado a farci un annuncio va bene? ora qual è il problema? se io l'appena pubblicato e faccio l'annuncio dove dico ragazzi questa è la migliore acqua del mondo ho 0 mi piace e la mia fanpage ha 30 mi piace non ho un commento non ho una condivisione chi cacchio compra da me? quindi mi sono reso conto che le persone che partono hanno una certa difficoltà ad avere credibilità poi ragazzi si crea l'effetto pecora cioè se una persona vede che tu hai credibilità hai followers hai pubblico hai persone che hanno comprato uno si fida di più o almeno va a vedere che è lo scoglio più difficile da superare per chi parte perché non hai tutti dicono ok ma come faccio a vendere se non ho risultati io è vero è più difficile allora mi sono detto ingegniamoci qualcosa per cui io posso farmi aiutare da tutta la community a vendere il mio prodotto con credibilità massima sai cosa mi sono pensato? cosa più semplice che mi potrebbe venire in mente ho detto creiamo il gruppo telegram go up quindi la prima novità è questo gruppo telegram dove in pratica tu vai a condividere un post quindi immaginiamo che ho pubblicato questa foto su instagram la vado a pubblicare nel gruppo telegram go up di marketing genius ovviamente solo su invito quindi non puoi entrarci se non sei un membro all in e qua è spiegato nel corso c'è un video proprio dedicato al gruppo telegram di crescita che ti spiego come usarlo e in pratica cosa succede? tu pubblichi il tuo annuncio in questo video qua ti spiego le regole ti spiego come accedere tu in pratica cosa succede? pubblichi il tuo post sulla tua fanpage o sul tuo profilo instagram lo metti poi nel gruppo telegram e scrivi una frase chiave che è questa scrivi quello che ti serve cioè in pratica scrivi per esempio like più commento va bene? e tutti i membri ovviamente quelli attivi ma ragazzi siamo migliaia di persone io sono certo che su migliaia almeno 20, 30, 40 che arrivano a metterti un commento ci sono è un dare e ricevere ragazzi questo gruppo è stato pensato così se non dai vieni sbattuto fuori esatto se non dai e ricevi e basta e qualcuno ti segnala vieni sbattuto fuori quindi questo gruppo telegram funziona così crei il tuo post lo pubblichi nel gruppo telegram e tutti i membri della community vanno a metterti mi piace e a lasciare un commento positivo vietati i commenti a caso ci sono tutte le regole spiegate commenti positivi e intelligenti tipo ehi grazie l'ho provata la tua acqua oppure è molto interessante la vado a provare oppure ho già comprato da te mi sono fidato mi sono trovato benissimo immaginati allora qual è il processo creo l'annuncio sulla bottiglia d'acqua lo pubblico sulla mia fanpage invito tutta la community a mettere mi piace e lasciare un commento o magari 30-40 commenti positivi e lancio l'annuncio a quel punto la persona che lo vede dice ehi cavolo ma quest'acqua qua ci sono già persone che l'hanno comprata funziona che figata vado a vedere quindi è un sistema che mi sono studiato semplicissimo micidiale dice Massimo Padula devastante semplicissimo ma che funziona alla grande come sono arrivato con questa cosa sono entrato in un gruppo instagram qualche settimana fa dove facevano questo con un rispetto estremo e il problema grosso in questo gruppo era che c'erano gli infami cioè c'era chi riceveva e basta e non commentava mai la roba degli altri e c'erano sempre queste polemiche io ho detto cavolo ma questo da noi non succede perché non può succedere perché noi siamo una community non siamo persone che non si conoscono cioè tra di noi c'è rispetto siamo all-inners siamo persone che hanno lo stesso sogno condividiamo un viaggio quindi da noi conoscendo già la community so che questo non avviene so che tutti i membri del gruppo telegram supporteranno i business degli altri perché non ti costa niente poi devi anche comprare il prodotto degli altri se ti va sì è anche utile per il networking sicuramente però penso che si può creare un bello spirito di gruppo per cui crescono tutti i nostri account e io ti posso garantire perché l'ho fatto l'ho fatto in beta test è una bomba cioè tu pubblichi e dopo un secondo ricevi 20 commenti e ti succede un'altra cosa molto interessante Fabio ed è spiegata nel corso quando tu su Instagram pubblichi una foto e ricevi tanti commenti quelle hashtag che hai messo in quella foto si indicizzano o meglio indicizzano la tua foto quindi immaginiamo che io sono a Dubai metto una mia foto così da figo e scrivo hashtag Dubai tutti i membri della community mi vanno a lasciare un commento Instagram dice wow a Dubai c'è uno che spacca indicizziamolo nei post più in evidenza e quindi esco nella home page di Instagram di altre persone che non sanno chi cacchio sono mi trovano mi iniziano a seguire e ti arrivano followers gratis hai capito come possiamo usare noi marketing genius la community per ricevere più contatti pubblicando normalmente quindi ragazzi questo servizio è una bomba è una delle novità principali di questo corso Lean usiamolo responsabilmente usiamolo bene perché può veramente svoltare il business di tutti senza spendere un euro in pubblicità tanta roba io l'ho testato ho messo delle foto ho messo le hashtag mi sono fatto mandare 10-20 commenti da persone vere e mi hanno indicizzato ed ero nei post più popolari di Dubai lo puoi fare per il tuo business lo puoi fare per le hashtag della tua attività lo puoi fare per le hashtag che usano i tuoi competitor e asfaltare tutti ragazzi stringiamo veramente le mani l'uno con l'altro uniamoci perché questa è una bomba ok mi piace ragazzi una super bomba grande fuori di testa per chi l'ha compreso chi non l'ha compreso ragazzi provatelo lo capirete subito appena questo servizio si attiva da domani notte più o meno domani sera domani notte lo attiviamo insieme a tutto il corso ok ragazzi questa è la prima cosa andiamo avanti andiamo avanti dai che ho ancora un po' di cose da mostrarvi belle tattiche quindi questo qui è il gruppo telegram poi si parte con il concetto di funnel di vendita ho pianificato una strategia che si chiama il ciclo magico per cui io ti spiego che strategia usare e partiremo proprio con questa cioè ti do gli step esatti ti dico step 1 pubblica in questo modo step 2 fate aiutare della community step 3 inizia a lanciare degli annunci e poi ti dico cosa fare dopo quindi ti introduco il corso e cosa andremo a fare facebook ads e qua si parte a bomba strategia 10.000 likes in pochi giorni come portare la tua fanpage a 10.000 likes in pochi giorni parto così secco senza comprarli senza comprarli likes veri ok in modo da avere credibilità creare annunci di valore c'è un video che ti spiega gli annunci di valore tutta roba che non c'è nel corso all in di adesso la struttura di un annuncio che funziona la scelta del target esatto un'altra cosa che io faccio in questa nuova versione del corso all in te la faccio vedere per esempio è questa per esempio qua nella lezione del funnel di vendita io spiego come sempre la lavagna ma ho usato la mia lavagna digitale adesso si vede sfocato perché semplicemente non ho messo play al video praticamente adesso non lo faccio ragazzi se no salta mi sa la connessione se vado a fare play vediamo un attimo se riesco ecco quindi io quello che faccio è nel corso all in disegno questi grafici che tu puoi fare screenshot e quindi tenere come riassunto di tutte le cose che dico quindi ti rimane proprio la mappa esatta da seguire e ti schematizzo tutto cosa che non facevo invece nell'altro corso dove magari usavo solo la lavagna ma non è così visivo come un grafico fatto al pc che puoi fare gli screenshot e te li puoi te li puoi tenere quindi è tutto è tutto studiato in questo modo ti mostro tutto il sistema qua e poi ti faccio vedere come applicare queste queste cose quindi ho aggiunto questi grafici lungo tutto il corso anche riassuntivi certe lezioni sono solo riassuntive su come fare tutto quello che abbiamo visto il corso prosegue con youtube google adwords completamente aggiornato perché adwords è cambiato bing ads e poi si riparla di funnel quindi ti spiego come creare due tipi di funnel a seconda dei tuoi business in modo che uno sappia esattamente come comportarsi il corso prosegue parliamo di come creare un sito web ti parliamo anche del nostro servizio mg web club per fartelo creare da noi se ti va email marketing qua ci sono delle tecniche di email marketing diaboliche le stesse cose che uso io ragazzi nei miei business tipo ho mandato una newsletter tu stronzo non me l'hai aperta allora non esiste che non te ne mando un'altra ti devo chiedere se ti è arrivata va bene allora ti insegno anche come fare queste operazioni sono molto semplici tipo andare a mandare un messaggio solo a chi ha cliccato su un link o solo a chi per esempio ha aperto l'email o solo a chi non l'ha aperta in questo modo vado a parlare la lingua tipo immaginati che tu ti ho mandato un'email non l'hai aperta e ti arriva una mia email il giorno dopo che ti dice tutto bene Fabio e tu dici cavolo ma cioè oppure nell'oggetto c'è scritto magari hai letto la mia email di ieri e tu la apri perché dici wow cioè sa che non l'ho aperta come fa a saperlo devastante ragazzi parla la lingua dei tuoi contatti va bene tanta tanta roba in questo nuovo corso lì dai ragazzi condividete condividete vado a vedere quante condivisioni ci sono io non ho parole perché sinceramente questo mese ti ho visto registrare questo corso e ogni lezione che registravi dicevo ma è realtà qualcuno ha intravisto il prezzo del nuovo corso lì si si può dire si può dire dai si può dire costerà 1000 euro ragazzi il nuovo corso lì 1000 euro perché gli vale ma ne vale 10.000 10.000 1000 euro è un prezzo promozionale a proposito chi va all'in entro mezzanotte ragazzi poi il sito va offline si potrebbe andare offline quando chiudiamo esatto va offline adesso a breve finito questo webinar buttiamo offline il sito andate all in fatelo adesso c'è il link qui sopra se non l'hai fatto fai azione adesso e l'aggiornamento è gratuito quindi chi è già all in chi l'ha acquistato prima dell'aggiornamento si becca il vecchio corso e l'aggiornamento gratuito quindi ti becchi due corsi io consiglio di vedervi l'aggiornamento perché è più aggiornato e più potente però chiaramente uno che magari ha iniziato il corso vecchio lo vuole finire lo può fare si non ha molto senso ah una cosa bella anche che ho detto ci sarà il certificato finale ok quindi chi completa il corso riceve il certificato di marketing genius che può essere utile magari comunque è un'azienda certificata business school in Spagna quindi è un'azienda che fa educazione ed è autorizzata a di insegnare quello che insegna arriviamo alla parte più potente Instagram ragazzi e ho anche spiegato una parte questo qui è un mega bonus influencer marketing cosa vuol dire influencer marketing ti insegno a usare degli influencer quindi conoscere contattare proprio ti dico cosa fare come trovare influencer sul web che promuovano il tuo business se hai un business o che se pigli magari un prodotto in affiliazione puoi fare la stessa cosa prendere degli influencer e raddoppiare i tuoi soldi gli influencer sono la fonte di traffico più potente che c'è ti insegno come usarla quindi prendere influencer contattare persone dagli magari 10 20 30 euro e far promuovere a loro il tuo business questo è potentissimo perché perché salti tutto lo sbattimento del fare annunci avere un sito pensare a cosa dire trovare persone loro hanno già il loro pubblico fanno un annuncio fanno una story loro o un video e ti arrivano soldi perché hanno già la fiducia da parte delle persone hanno già autorità sono una delle top fonti di traffico che esistono ti insegno come farlo se hai un tuo business se non hai un business ti insegno a fare l'opposto cioè ti insegno a farti pagare per fare quello cioè creare prima un bacino di utenza di persone che ti seguono anche solo 500 anche poco sono tutti buyer valgono più di 100.000 ti insegno a creare un pubblico specifico e a farti pagare per promuovere qualcosa tanta roba quello che conta alla fine non è chi ti segue è il fatturato che tu sviluppi quando promuovi qualcosa di qualcun altro se io ho 500 persone che mi seguono su Instagram e promuovo qualcosa e glielo faccio vedere e i ragazzi poi comprate questo arrivano 500 vendite valgo molto di più di uno che ha 100.000 follower ma che non sono dei buyer questo discorso è applicato anche agli youtuber ci sono un sacco di youtuber che hanno un milione di follower e non fanno un euro e youtuber che hanno mille follower in target che comprano ciò che vi raccomando allora vedo qualcuno che sta chiedendo ma quanto si paga perché è già all in ragazzi è gratis chi è già all in è gratis va bene l'ho già detto ma lo ripeto è gratis quindi è il mio regalo per voi ragazzi enjoyatevelo va bene veramente per chi ci ha supportato e ci ha portato fino a qui per chi ci ha dato fiducia ragazzi è il mio regalo per voi questo aggiornamento chi non è all in compratelo adesso a 349 euro è l'ultima occasione 349 euro vai all in adesso questa sera in questo momento domani ti becchi il corso nuovo che costa 1000 euro cioè è tanta roba ragazzi se invece esiti paghi perché è giusto che paghi e poi ci sono i nostri bonus MG per attività tradizionali quindi ti spiego in questi bonus come usare tutte le tecniche del corso applicate a chi ha una attività poi ti insegno MG per network marketing quindi chi ha un'attività di network andiamo a rivedere tutto il corso ti dico che strategie usare specifiche per un network online o di prodotti e poi c'è MG per affiliate marketing quindi chi non ha un business da promuovere magari non vuole fare l'influencer io do queste due opzioni puoi fare affiliate marketing o puoi fare l'influencer quindi creare un tuo bacino di utenza e poi vendergli dei prodotti o promuovere business di altri facendoti pagare do queste due opzioni se vuoi fare affiliate marketing ti insegno come usare tutte le strategie del corso andare a prendere prodotti di altri e farti pagare ragazzi questo è il corso all in cioè è all in si chiama all in perché è tutto all'interno di questo corso e molte persone dicono ma sarà adatto per me è un po' come chiedere posso comprarla a Ferrari senza averla patente molta gente si fa male online perché ha delle lacune mostruose negli argomenti trattati del corso all in quindi una persona che finisce il corso all in ha la patente per fare ciò che vuole sul web è per questa ragione che migliaia di persone sono passate attraverso questo corso e ha ad opinione anche di grandi leader internazionali anche americane perché abbiamo visto che non è che sono sempre migliori gli americani ok questo è forse il corso meglio spiegato sull'internet marketing mai stato creato perché alla fine Matteo ha una qualità che è quella di spiegare a livelli così semplici che chiunque lo può capire anche se non ha mai acceso un pc ok perché lui aveva un pc che saltava per aria nel 2012 mi ricordo volevo iscriverlo in un network marketing e lui mi fa aspetta che accendi il pc o non riuscivamo ad andare nella pagina di internet explorer perché saltava quel maledetto pc non aveva neanche un pc informazioni importanti allora il sito di marketing genius andrà offline tra poco a mezzanotte subito dopo questa diretta praticamente tornerà online domani venerdì 1 febbraio in tarda serata siate flessibili su questo non so darvi un orario esatto perché dovremo importare tutto il nuovo sito sul sito di bisupergenius.com quindi non sappiamo esattamente quante ore ci vorranno penso che in tarda serata domani ci sarà quindi indicativamente le 10 di sera 11 più o meno insomma in tarda serata domani dovrebbe essere online se ci fosse qualsiasi aggiornamento importante o qualsiasi ritardo ve lo faccio sapere tramite i miei canali social e tramite newsletter quindi non vi preoccupate ragazzi non crolla non crolla marketing genius siamo qui ragazzi importante last call ok vai all in se ancora non l'hai fatto il link è qui sopra hai visto il nuovo corso hai visto cosa abbiamo creato la versione 3.0 costerà 1000 euro a partire da domani ed è in promozione a 349 euro per chi fa azione questa sera ultima occasione veramente pure vai all'in sabato pagalo 1000 euro che sarai sicuramente più compromesso anzi io ti invito una cosa esatto pagalo 1000 euro tu hai detto una cosa Fabio tu hai detto una gran cosa io non lo pagherei mai hai detto se puoi pagalo 1000 euro guarda te lo giuro se puoi pagalo 1000 euro sai perché io voglio raccontarti un aneddoto allora qui è mezzanotte e tre quarti io domattina mi alzo alle 5 perché sto seguendo una mentorship che ho pagato migliaia di dollari se quella mentorship non l'avessi pagata migliaia di dollari domattina dormo perché non l'ho pagata abbastanza per compromettermi e andare all in nel seguirla quindi hai due opzioni o vai all in questa sera e l'aggiornamento gratis e ti godi un po' il nostro regalo oppure sei un vero imprenditore lo paghi sabato il prezzo che merita di essere pagato sono stati forse due anni quanto tempo è che è due anni quasi che costa 349 euro il corso all in ed è stato un regalo forse abbiamo voluto dare veramente energia positiva e fare l'over deliver ovvero andare oltre alle aspettative ma noi crediamo in questo momento per la qualità che è aumentata a livelli stratosferici se eri con noi nel 2017 commenta facci sapere se la nostra qualità anche visiva il modo di presentarsi anche come vengono spiegati concetti è aumentata quindi per me ragazzi non esiste un corso così cioè ma 1000 euro è poco veramente poco ve lo dico veramente perché so cosa ho fatto in questo corso so anche come è aumentata anche la mia abilità di insegnanti in questi ultimi tre anni perché siamo diventati docenti universitari abbiamo lavorato con migliaia di imprenditori ho avuto anche più esperienze io nel testare cosa funziona e cosa no e questo corso è la vita veramente questo corso è la bibbia dell'internet marketing insuperabile perché è l'unico corso pratico che ti dà dei mezzi ti dà una community straordinaria ti dà un supporto 24 ore su 24 7 giorni su 7 e ti dà una famiglia in cui puoi evolvere te stesso tu stai sottovalutando l'ambiente in cui vivi se vuoi di più e se nell'ambiente sbagliato non ce la farai mai devi isolarti abbiamo creato un posto dove puoi crescere senza essere giudicato in maniera negativa ricordati una cosa se vuoi migliorare e uscire dalla tua situazione quando ce la starai per fare le persone attorno a te proveranno a tirarti indietro proveranno a bloccarti perché perché se ce la farai sarai lo specchio del loro fallimento quindi oltre a un corso ultra preciso di internet ok questo è relativo perché lo strumento è uguale per tutti quindi in teoria tutti dovrebbero farcela ma ciò che veramente lo rende unico è l'ambiente è l'ecosistema è la famiglia che ti protegge dalla negatività esterna e questo per me non ha prezzo comunque guardavo gli studenti che sono già con noi o meglio studenti preferisco chiamarli partner ecco i nostri sostenitori e partner stanno tutti scrivendo che bello 1000 euro cioè sono contenti io non ho mai visto un posto perché sapete il valore che c'è loro sanno il valore che c'è sì non ho mai visto persone così contente che aumenta il prezzo però è vero ma poi la prezzi di più guarda io dico se puoi compro la 1000 euro compra la 1000 euro perché lo usi veramente 349 è poco quindi se tu l'hai comprato 349 o lo stai comprando adesso 349 fammi una promessa che lo guardi e che lo guardi tutto lo devi guardare tutto quel corso anche magari più volte perché è tutto lì dentro è tutto lì dentro va bene guardalo più volte studialo usalo perché l'hai pagato poco e questo però non ti giustifica lasciar perdere pigliatela seriamente invece io so il più delle volte guarda chi ha risultati e chi paga tanto perché se la piglia seriamente è vero cioè lui ragazzi sta facendo la mentorship con un top imprenditore con un top mentor che l'hai pagata quanto l'hai pagata? migliaia di dollari un bel po' l'ha pagata io lo vedo lui che si sveglia alle 5 di mattina cioè 6 ore di fila a volte mi fa tipo sono le 9 di sera e mi fa vado a dormire mi sveglia alle 5 perché ti sveglia alle 5 per guardarmi il webinar cioè in diretta hai capito e poi magari gli danno anche la registrazione no ma lui ci vuole essere in diretta questo qui è il mindset di chi vuole vincere ragazzi perché l'ha pagato tanto se l'avessi pagato 100 euro sai uno cosa fa? dice ah vabbè ma se tu l'hai pagato 100 euro tu dici ah vabbè ma guardo il replay e poi magari il replay dice vabbè poi lo guardo domani perché l'hai pagato 100 euro te ne freghi infatti ho pagato un altro corso 100 dollari secondo te lo sto guardando? non lo guardi non lo guardi cioè anche se mi interessa l'argomento non lo sto seguendo non gli dai valore e non mi sento neanche in colpa perché ho detto ah 100 dollari e questo è un consiglio che vi do anche a voi ragazzi imprenditori alza il prezzo alza il prezzo se quello che vendi lo vale va bene se tu pensi che quello che vendi lo vale vale almeno 10 volte di più di quello che che stai mettendo alza il prezzo perché i tuoi clienti ti saranno più contenti e chiuderai la cerchia ma poi è anche una cosa tua se hai una certa etica e dici cavolo adesso lo vendo a mille devo dare il massimo capito? se uno sa che prende tanti soldi ha una certa etica si sente in colpa se non dà il meglio di sé capito? quindi se sei così chiedi di più e quel fatto di chiedere di più ti porterà anche a te a dare ancora di più al cliente se invece è un prodotto che fa schifo e vuoi aumentare il prezzo e lo fai solo per soldi non farai un euro questa è una garanzia mille euro regalato è vero ragazzi è mille euro regalato ragazzi ci sono persone che vendono i loro corsi a mille e cinque duemila e non ti insegnano come fare le cose che è la cosa più importante io non ti dico cosa fare io ti faccio vedere come si fanno ma neanche ti faccio vedere anzi le fai con me le faccio con te capito? è veramente senza prezzo quindi ragazzi ci sono centinaia di domande ragazzi non penso che potremo rispondere questa sera ma manderò poi delle newsletter con tutte le domande insomma sono domande un po' generiche vedo soprattutto degli affiliati questo poi c'è il gruppo dedicato agli affiliati va bene per questo ragazzi per chi promuove Marketing Genius questa sera volevamo solamente presentare le novità più importanti e ce l'avete andrei in chiusura Fabio sì io sono felicissimo perché su 280 abbiamo raggiunto quasi 290 tantissimo non c'è stata una persona che ha scritto qualcosa di negativo e questo è molto difficile da trovare sul web perché? perché la realtà per cui abbiamo creato una community così unita una famiglia digitale così unita è proprio per creare uno schermo abbiamo voluto aiutare le persone dando così tanto che poi alla fine ricevi indietro tanto e il fatto che nessun hater o persona negativa si sia infiltrato in questo live dimostra che l'energia positiva era così alta che ha tenuto veramente questo live al massimo della positività siamo veramente felici è stato perfetto no? sì assolutamente ragazzi qualche anno fa qualcuno ci disse che eravamo dei falliti eravamo dei pazzi eravamo dei scappati di casa e questo qui è il risultato invece di tanti anni di lavoro di aver creduto in noi stessi in quello che facevamo tutti i giorni tutti i giorni senza nessuno che ti motiva se tu hai bisogno di motivazione molla devi automotivarti se non hai la fame di automotivarti molla non partire ti fai male devi trovare il tuo perché provalo dentro e non ascoltare mai nessuno che prova a distruggere i tuoi sogni perché chi prova a distruggere i tuoi sogni è perché già da tempo ha rinunciato ai suoi tu continua con il tuo ottimo lavoro e ti dirò una cosa la grandezza del tuo pubblico non conta continua a concentrarti su quello che stai facendo e prima o poi qualcuno arriverà da te e riconoscerà il tuo lavoro ragazzi grazie di cuore per essere stati con noi questa sera grazie per essere parte di Marketing Genius il sito andrà offline tra pochissimo quindi fate l'acquisto adesso per chi ancora non è all in ed è interessato a partire in questo viaggio con noi il sito andrà offline tra poco ci rivediamo domani sera faremo poi un comunicato su tutti i nostri social quindi su facebook instagram gruppi di Marketing Genius newsletter quindi appena il sito nuovo sarà online lo vedrete e lo saprete tutti grazie ragazzi buona serata a domani e ciao ci vediamo all in ciao ciao